In una splendida mattinata di sole un gruppo di volontari appassionati ha dimostrato il proprio impegno per l'ambiente dedicandosi alla tutela della riserva integrale dell'area marina protetta di Torre Guaceto. Le leghe navali di San Vito de Normanni e Torre Santa Sabina hanno unito le forze in una missione di pulizia che ha visto l'isolotto e i fondali della zona A liberarsi da rifiuti spiaggiati. Con le loro imbarcazioni i volontari hanno raggiunto il cuore dell'area protetta dove il personale del consorzio di gestione di Torre Guaceto li attendeva per supportare e coordinare l'iniziativa. Questo evento rappresenta un contributo significativo alla conservazione della zona più preziosa e delicata dell'AMP, un'area così protetta che vi è proibito persino il transito di mezzi a motore e l'accesso per attività balneari. Donne, uomini e bambini hanno lavorato insieme per ripulire l'isolotto e i fondali, un'operazione non semplice a causa dei vincoli che salvaguardano la zona A. Il risultato è stato notevole, una grande quantità di rifiuti è stata rimossa rendendo l'area nuovamente un gioiello naturale. Il presidente del consorzio di gestione di Torre Guaceto, Rocchi Malatesta, ha espresso la sua gratitudine. Ringraziamo la comunità delle leghe navali per la cura e la dedizione dimostrata nei confronti della riserva. La quantità di rifiuti portati dalle correnti marine è un problema costante e per questo abbiamo già programmato una seconda attività di pulizia per il mese di agosto. L'evento non solo ha migliorato le condizioni ambientali della riserva ma ha anche rafforzato il legame della comunità con il proprio patrimonio naturale dimostrando che l'impegno collettivo può fare la differenza con la prossima sessione di pulizia già in calendario. Torre Guaceto continua a essere un esempio luminoso di come la collaborazione e la responsabilità ambientale possano preservare la bellezza e l'integrità del nostro pianeta.